Pronti per questa gara dentro fuori di ottavo di finale di Europa League. Iniziamo a giocare. Pallone dentro l'aria per Neom, il giocatore del Cameron. Parte il cross, il colpo di testa! E ci vuole una grande parata di Andanovic. E allora Lautaro può scappare via, attenzione, se ne va in slalom, resiste, entra in aria, il tiro! La parata! La parata di Soria! Attenzione per Lautaro, carica il destro, il tiro! La parata a terra di Soria! In tre sul portatore di palla, Bastoni prova a mettere dietro per Lukaku, che controlla, prova ad entrare in aria, attenzione, il suo tiro! E' gol! E' gol! E' gol! E' gol! E' gol! Luca! 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 Varella fa il numero, resiste all'intervento irregolare, carica il destro! E c'è una deviazione in calcio d'angolo. Attenzione a Jason, eccolo qua, il movimento classico, il cross. C'è possibile calcio di rigore per un fallo di mano, sta controllando Taylor, calcio di rigore. Parte Molina, il tiro. Ed è fuori! E qualcuno l'ha detto! E guarda che lo sbaglia! Poi allarga per D'Ambro il cross, murato, ancora Barella che la recupera. Lukaku! Ah! Sciupa la palla del Capò! Bellissimo di Eriksen che controlla l'appoggia per la corsa di D'Ambro che va al cross. Pallone ripallato, Eriksen! E' gol! 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 Taylor dice che l'Inter batte Getafe 2-0. E' gol! 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 E